Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è, finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché, forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se, quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Che cosa è stato, cos'è stato a cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui, vuoi sapere anche se, soddisfatto di me, in fondo, in fondo non sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene anche se, se alla fine è il passato, il passato, liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è, la voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa divento, cosa divento, cosa divento, quella voglia che non c'è più? Cosa divento, cosa divento, che cos'è che ora non c'è più? Cosa divento, cosa divento, quella voglia che avevi in più? Cosa divento, e come mai non ricordi più? Cosa divento, non ricordi più? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.